Siamo con Andrea Cesaro, tu sei stato uno dei migliori acquisti del Civitavecchia di quest'anno, sei contento di essere arrivato in una piazza importante come Civitavecchia? Sono contentissimo e orgoglioso di far parte di questa società. All'inizio sapevo che venendo qua il rischio più grande è quello di una piazza che, essendo retrocessa l'anno scorso, quest'anno vuole sicuramente qualcosa in più da noi. Però questo è il rischio del calcio, è il bello del calcio, perché si sa, se si va bene qua ci si diverte, ci si sta bene. Le voci all'inizio del mercato ti davano vicino alla Dispoli, perché invece poi hai scelto il Civitavecchia? Ma per varie cose, una perché è venuto qua il mister, è venuto qua mio padre, anche perché io feci un'intervista un sacco di tempo fa dove dissi che volevo giocare a Civitavecchia proprio come mio padre. E poi ci sono altre cose sotto che è meglio che non dico, perché crea solamente polemiche che non mi vanno in questo momento. Qual è il tuo obiettivo personale per questa stagione? L'obiettivo personale è fare un campionato ad alti livelli, sia in termini di gol, sia in termini di classifica. Vogliamo regalare almeno a queste persone un anno, quantomeno tranquillo, e poi dopo divertirci. Ci descrivi le tue caratteristiche? Vabbè, sono un esterno d'attacco, qualche volta ho fatto anche la prima punta, ma perché mi ha inventato mister prima punta, perché se no io non sono mai stato una prima punta. E niente, vabbè, veloce. Quindi forse un po' bravo coi piedi, forse, però diciamo non bravissimo. Ultima domanda, dove può arrivare questo Civitavecchia? Io credo che quest'anno sia stata fatta una squadra che può arrivare veramente lontano. Grazie. Grazie.